Ciao a tutti, nel video di oggi, Fedez e Leone si divertono a giocare insieme ai supereroi. Nel frattempo, oggi è uscita la loro nuova serie, e Chiara si riguarda tutti gli episodi. Vi lascio al video, buona visione! Sai dove andiamo adesso? Andiamo in un paradiso fiscale a evadere il fisco! No, non possiamo andare, perché io sono un supereroi, e ti sconfiggio! È la scossa delle ragni a te! Io adesso rapirò Lady Gaga! Ma non puoi! Invece vado a rapire Lady Gaga! La scossa delle ragni a te! No, io adesso devo rapire Lady Gaga! Ok, non la rapisco più Lady Gaga! Sei monnellissimo, e non puoi nemmeno scappare! No, 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 allora sai cosa faccio? Passamola! Vado a rubare dei gratta e vinci! No! 10, a sorpresa? 10 e mezza, appena mettiamo a letto Leo, piccola diretta su Instagram per celebrare l'uscita della serie! Raga, non so se lo sapete, ma sta nevicando! Tu, per esempio, Fedez, hai fatto la letterina, anche tu? Con mio figlio? Sì, 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 sì! Che cosa, per che cosa vi siete disposti? C'è un problema, allora abbiamo fatto questa letterina dove lui ha raccontato di come è bravo con sua sorella, mentendo scudolatamente, e ha ammesso che ogni tanto fa il monello a scuola, insomma, un po' di cose e l'unico problema è che ha chiesto a Babbo Natale un Spider-Man giallo sulla moto gialla e il problema è che non esiste! Quindi Babbo Natale dovrà trovare questo Spider-Man giallo con la moto gialla Provo a chiedere a Manuele se ne sa qualcosa, magari lui lo sa se esiste Manuele, tu sai? Manuele, ma tu l'hai mai visto uno Spider-Man giallo sulla moto gialla? Eh, no! No! E vedi, è una visione, una amicinazione di mio figlio Ma siamo in radio, possiamo fare un appello, se qualcuno l'avesse visto No, ma io sono veramente... Madonna, guys, stanotte esce la serie in tutto il mondo Wow! Una volta che la vedete, da domani saranno disponibili i primi cinque episodi e gli ultimi tre, che secondo me sono i più belli, saranno disponibili giovedì prossimo Mi promettete che mi dite cosa ne pensate? Spero vi piaccia! Spero vi piaccia! E lui risponde sempre con la stessa mossa E' bellissima, era vitto Con il suo cappellino da chef E i suoi mentini Oddio ragazzi, ci sono i primi cinque episodi Uno, due, tre, quattro, cinque So guys, tonight, War Wild, the Ferrania series, is gonna be available So, I'm super nervous, super excited So, you have to promise me That after you've watched the first five episodes Because five episodes are gonna be available tomorrow And the last three of season one are gonna be available next Thursday So, promise me, you'll tell me what you think about So, promise me, you'll tell me what you think about